Ancora guai giudiziari per la famiglia Viviani, già più volte al centro di inchieste che avevano portato anche alle esecuzioni dei arresti nei confronti di Raffaele Viviani e dei due figli, Carlo ed Emilio, rispettivamente di 35 a 38 anni. Questa volta i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno una confisca di beni per un valore complessivo di 500 mila euro. Sottratti al possesso dei Viviani il Bar Lady Caffè di Via Irno con le rispettive quote societarie, confiscate anche le quote di un'altra società intestate alla figlia di Raffaele Viviani e alle mogli di Emilio e Carlo ed infine un appartamento in Via Cappelli a Salerno e tre autocarri e donato vetture intestate a Carlo Viviani. Il provvedimento nasce a seguito di un'indagine patrimoniale condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dell'Arma che ha proposto la confisca dei beni a Viviani ritenuti a capo di un'organizzazione criminale a base essenzialmente familiare che agiva fra la frazione collinare di Ogliare e comuni di San Mango Piemonte, San Cipriano Piscentino, Baronissi e Perlezzano. Furti, estorsioni, usura, ricettazione di autovettura, gli ambiti d'azione del clan. Le indagini che hanno portato alla confisca da mezzo milione d'euro hanno consentito di documentare senza dubbio la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati dai Viviani. Beni quindi hanno ritenuto i militari dell'arma frutto delle attività illecite svolte dai componenti del clan.